Benvenuto su scelta del prodotto. In questo video daremo un'occhiata a miglior stand di biancheria elettrico. Ho stilato questa lista basandomi sulla mia ricerca e opinione personale e ho cercato di catalogarli in base al loro prezzo, qualità, durata e altro. Se vuoi conoscere il prezzo e saperne di più su questi prodotti, puoi visitare i link nella descrizione qui sotto. Bando alle ciance. Cominciamo con la nostra lista con il numero 5. Abbiamo Innova Goods. Questo stand di biancheria elettrico pieghevole di Innova Goods è perfetto per i piccoli spazi. Realizzato in alluminio e ABS, ha una capacità di 12 barre e due ripiani regolabili. È facile da usare e da installare e l'alimentazione è fornita da un motore da 24 W. Le dimensioni approssimative sono 87 x 143 x 65 cm. Un apparecchio molto utile che vi aiuterà a risparmiare tempo, spazio e denaro. Innova Goods è un marchio internazionale con una vasta gamma di prodotti. Tutti i suoi prodotti hanno una cosa in comune. Sono progettati per rendere la vostra vita più facile, divertente e conveniente. La loro vasta gamma di standini elettrici pieghevoli non fa eccezione. Questo stand di biancheria elettrico pieghevole di Innova Goods è perfetto per i piccoli spazi. Realizzato in alluminio e ABS, ha una capacità di 12 barre e due ripiani regolabili. Numero 4. Innova Goods stand di biancheria. Questo stand di biancheria elettrico pieghevole è perfetto per case o appartamenti di piccole dimensioni, in quanto non occupa molto spazio quando non viene utilizzato ed è molto facile da montare. È ottimo per asciugare i vestiti in modo rapido ed efficiente, con un consumo ridotto di 100 W. Inoltre, il cavo di alimentazione è lungo 1,60 M, in modo da poterlo posizionare ovunque sia necessario. Quando non viene utilizzato, è sufficiente ripiegarlo e riporlo facilmente. Questo stand di biancheria elettrico è perfetto per case o appartamenti di piccole dimensioni, in quanto non occupa molto spazio quando non viene utilizzato ed è molto facile da montare. È ottimo per asciugare i vestiti in modo rapido ed efficiente, con un consumo ridotto di 100 W. Terzo posto c'è Media Shopping. Questo stand di biancheria verticale elettrico di Media Shopping è perfetto per asciugare rapidamente e facilmente i vestiti in casa. Realizzato in acciaio inox e plastica ABS, è robusto e durevole e può contenere fino a 20 kg di biancheria. Lo spazio di 10 metri consente di appendere una grande quantità di capi in una sola volta e le due alette. Appositamente curvate distribuiscono l'aria fresca in modo uniforme per un'asciugatura più rapida. È possibile impostare l'aria su due velocità, scegliendo un'asciugatura delicata adatta ai capi delicati o una velocità più potente per i capi più pesanti. Lo stand di biancheria può essere sollevato e abbassato con la maniglia incorporata e può essere riposto facilmente quando non viene utilizzato. Questo stand di biancheria verticale elettrico è perfetto per asciugare rapidamente e facilmente i vestiti in casa. Numero 2. Fishtec Stendino Questo stand di biancheria elettrico è molto pratico, non occupa molto spazio ed è pieghevole per un ingombro ridotto. Lo stand di biancheria ha una parte centrale e due ali laterali che possono essere estese e ripiegate. Lo stand di biancheria è dotato di un pulsante di accensione spegnimento che protegge dagli spruzzi se si desidera posizionarlo in bagno e di un cavo di alimentazione lungo 1M40. Questo stand di biancheria elettrico è perfetto per i piccoli spazi, in quanto è pieghevole e occupa pochissimo spazio. Il pulsante di accensione spegnimento evita schizzi accidentali se si desidera utilizzarlo in bagno, mentre il cavo di alimentazione di 1M40 offre un'ampia portata. Che si tratti di asciugare pochi capi o un carico completo, questo stand di biancheria elettrico è una scelta eccellente. Fine, il numero 1 della nostra lista, EASIMAX. Lo stand di biancheria EASIMAX è il modo perfetto per asciugare il bucato in modo rapido e delicato. La tecnologia a risparmio energetico Airflow asciuga il bucato due volte più velocemente di uno stand di biancheria tradizionale e il design pieghevole e leggero lo rende estremamente poco ingombrante. Lo stand di biancheria è inoltre regolabile per adattarsi a diverse misure di aste e può contenere fino a 15 kg di biancheria. Lo stand di biancheria EASIMAX è il modo perfetto per asciugare il bucato in modo rapido e delicato. La tecnologia Airflow a risparmio energetico asciuga il bucato due volte più velocemente di uno. Stand di biancheria tradizionale e il design pieghevole e leggero lo rende estremamente poco ingombrante. Sempre, troverai tutti i link di questi prodotti nella descrizione qui sotto. Grazie per aver guardato questo video. Se l'hai trovato utile, allora metti i mi piace e condividilo. Inoltre non dimenticarti di iscriverti al nostro canale per vedere altri fantastici video come questo.